Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live, live malata, come ieri, ma pur sempre live. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Salve. Questa è la seconda parte della live di ieri in realtà. Potremmo dire così, perché ieri ho staccato presto, mancava la parte di Palworld, la facciamo oggi. Infatti oggi partiamo direttamente da Palworld. Ma se tutto va bene, se riesco a tirare a lungo, facciamo una live un po' più lunga del solito su Palworld, così ci portiamo avanti. Buonasera, buonasera a tutti. Come state ragazzi? Come va? Cosa mi raccontate di bello? Beh, mi sento meglio. Non ho più mal di gole. Mal di gole è durato un giorno, per oggi sono un consumatore incredibile di fazzoletti. Quindi purtroppo sono molto raffreddato. E quindi niente, si va avanti così. Infatti, ripeto, in questa live vedo quanto duro, dai. Però, spero, poter fare una live giusta, ecco. Buonasera, buonasera Fabio, benvenuto in chat. Sono un po' in ansia, a parte questo tutto bene. In ansia perché? Così... A caso c'è un motivo particolare. Il cane ha pisciato in cucina. Non voglio più vivere con un cane in vita mia. Ma che bello. Ti ha pisciato direttamente sulle stoviglie, così per terra. No. Che ne pensi della schiavitù degli esseri di Palworld? Sono fatti di pixel. Basta, dico solo questo. Bet su quanto resisti? Ma facciamo una bella bet se arrivo a fine anno, che già ho iniziato con diversi acciacchi, se volete. Dai, a parte le cazzate, come... Cosa mi dite? Cosa mi raccontate? Ferre, ti sei costruito un Gundam? Mandaci... Mandami una foto. Facci vedere da qualche parte. Allora, un cane ha pisciato per terra in cucina. Il gatto leccava le pentole. Ma no, ma che cazzo si è finita? Mamma mia, è sempre peggio. Altair, sei stressato emotivamente? Come mai? Che succede? Ho scoperto che i tunnel in Kazakistan erano pieni di trappole, erano lunghi anche 250 chilometri. Sicuro che... Si parla del Kazakistan e non... Del Vietnam. Dato che ne parlavamo l'altra sera. Sì, stiamo tutti una favola. E... È così. Come sempre, ogni giorno si inizia la live. Come va? Come state? Una merda tutti quanti. Sì, non ho più il fastidio della gola, almeno... Per ora. Cioè, oggi mi sono svegliato senza il mal di gola. Poi è tutto da dimostrare. Ma io ho qui non uno, ma ben due pacchetti di fazzoletti, che spero bastino. E mi sa che tra poco, prima di avventurarci effettivamente in Palward, ci sarà la primissima pausa soffiata di naso. Abituatevi, perché oggi ce ne saranno tante. Allora, la puntata di lunedì, che abbiamo fatto? Fammi pensare. Abbiamo esplorato e abbiamo... Abbiamo fatto... Abbiamo fatto accoppiare... Eh no, ma è quella di domenica, non l'idea. È uscito anche oggi il VOD. Abbiamo fatto accoppiare i pal. Prova acqua calda e tanto limone. Per il raffreddore. Di solito per la gola, no? Per il raffreddore, intendi? Buonasera, Cano, intanto. Farfi sta benissimo, spero che duri a lungo. Dai, almeno tu. Meno male. Al lavoro non va bene, colleghi netti e non collaborativi. Mi spiace, Otair. E tu, cerca di... Di metterti in mostra se pensi di avere più potenziale. Magari... Non so, verrai premiato? Spero. Una cosa importantissima sul posto di lavoro, secondo me, è avere una prospettiva di crescita. Avere degli obiettivi. C'è un posto di lavoro che non ti dà una possibilità di migliorare, non ti dà uno scopo. Può essere deprimente, effettivamente. Per la gola, radici di zenzero? No, allora, per la gola mi sono preso lo spray antinfiammatorio e... lo sciroppo di lumaca che viene rimasto in casa. Lo sciroppo di lumaca è... è una cosa che concettualmente è disgustosa, però funziona molto bene come lenitivo e in realtà ha un sapore buonissimo, però praticamente avete presente le lumache che quando strisciano lasciano la scia, no? hanno quella sorta di muco, ok? Infatti quando si cucinano le scarghe vengono fatte spurgare prima, vengono cotte nell'acqua per spurgare questo muco, appunto. Bene, nello sciroppo di lumaca prendono il muco, il... il viscidume della lumaca ed è utilizzato nei medicinali. E... in questo caso lo sciroppo è tipo molto zuccherato e poi sa di timo ci mettono così a caso il timo ed in realtà ha un buonissimo sapore però se ci pensi fa proprio schifo infatti è una cosa che mi fa schifo ogni volta. Cioè non è come prenderti una lumaca dal giardino e ciucciarla chiaramente però non è neanche il massimo ecco. Sì, il pensiero non è proprio il top sì, diciamo. Che sapore è il timo? Beh, il timo è una spezia considera e non te lo so spiegare cioè non so spiegarti il sapore delle spezie però è buono è speziato non so come dirtelo il recap del gioco lo facciamo adesso appena entriamo e facciamo così mi bevo un sorsino d'acqua mi soffio il naso potentissimo e poi iniziamo allora mi muto un attimo per il soffiaggio nasale mi sono intoppate le orecchie soffiando il naso che fastidio mi sa che teniamo solamente una cuffia allora ragazzi oggi live totalmente dedicata a pallward potrebbe durare più del solito la sessione di gioco oppure come ho detto prima ripeto potremmo staccare un po' prima del solito perché comunque sono molto raffreddato ho il naso che si tappa le continuazioni devo fermarmi per soffiare il naso chiedo scusa però mi faceva piacere fare la live insomma perché riposarsi cioè che schifo riposarsi non fare la live anche perché comunque cioè siamo qui nel chill giochiamo a pallward è bello iniziamo ad aprire il mondo ora vi faccio tutto il recap rispetto alle solite live di pallward che di solito arrivano in seconda serata questa volta dato che iniziamo subito con pallward non voglio negare il momento chiacchiere quindi se volete parlare anche di cose che non c'entrano che ne so la vostra giornata cose che sono capitate come stavamo facendo nell'intro o qualsiasi domanda anche non inerente sentitevi liberi di scrivere in chat vi do il permesso andare fuori tema chiaramente evitate spoiler e consigli se non richiesti come al solito e che altro dirvi allora facciamo un recap a voi piaccio anche se raffreddato beh meno male perché lo sono spesso quindi immaginati che casino se no piccolo recap qui abbiamo un uovo gigante e qui un altro che sono prossimi alla schiusura quindi iniziamo proprio a bomba sta live sicuramente non farò in tempo a fare una sega che mi attaccheranno come al solito ma se notate ho dei punti statistica inutilizzati quindi io partirei da qui perché avevo fatto off camera altri due livellini arrivando al livello 44 ne mancano solamente 6 al livello finale e io investirei non lo so su resistenza forse però resistenza mi da un boost di 10 davvero poco ho punti vita punti vita mi avevano shottato l'altra volta quindi forse punti vita però si è vero la resistenza non ne ho tantissima quindi forse sarebbe il caso di puntare un po' lì siamo 200 220 1 e 1 che poi se io se io devo se arrivo al livello 50 vuol dire che avrò altri 6 punti e poi non so se ne avrò altri da spendere quindi altri 6 punti dove li metto mettiamo che arriviamo a 2000 pv e poi ne avrò 4 da mettere in resistenza sì io farei così dai peso totale 700 mi sembra onesto velocità dell'attività non l'ho mai cagato più di tanto e forse ho fatto male però di solito le attività le fanno i pall quindi va bene così attacco mi sa che non lo tocco più perché avanza troppo lentamente sì facciamo un po' un po' dai e se andiamo invece in tecnologia dovremmo aver sbloccato cose molto interessanti infatti abbiamo sella di ormuntai dignis per cavalcare che dovrebbe andare anche no non va in acqua probabilmente lui l'ho notato ora lanciarazzi di relaxaurus spada allora partiamo con ordine scudo tera assolutamente sì struttura medica elettrica muro difensivo in metallo prendiamolo sella di water susaku come water ma scusa l'hanno tradotto era susaku acqua water susaku è stato cambiato il nome questa la prenderei assolutamente la sfera leggendaria direi proprio di prenderla che tra l'altro è la sfera finale fornace elettrica permette di raffinare l'ingotto di metallo palle e ci serve per il prossimo obiettivo certo sarà un po' un casino trovare i materiali la spada e questo assolutamente e abbiamo sbloccato cose molto carine il prossimo sarà il fucile d'assalto peraltro ma detto questo eravamo arrivati alla creazione del ranch per far raccoppiare i pall abbiamo ottenuto delle uova abbiamo anche trovato dei pall molto fichi poi abbiamo esplorato insieme e ho continuato a esplorare però off camera arrivando a esplorare l'intero vulcano off camera mi sono fatto uno sbatta incredibile per vederlo tutto e attenzione ho trovato il leggendario si trova qua jet dragon peraltro ci sono proprio passato davanti perché perché è in una zona random cioè non me l'aspettavo qui io stavo proprio vagando nel chill me l'ho trovato addosso e sono scappato via se no l'avrei anche un po' evitato infatti se notate qui c'è un piccolo angolino perché proprio ho fatto però insomma c'è il leggendario a livello 50 l'avrei voluto registrare per il momento però vabbè tanto ci torneremo sicuramente quindi questa è un po' la nostra situazione ora io andrei a dormire e nel mentre pausa soffiata di naso veloce necessaria non ho capito perché non abbia dormito comunque non non è servito a niente soffiare il naso vi dico la verità sono a quel punto del raffreddore in cui non c'è verso cioè tu soffi e devi soffiare ancora subito dopo quindi tipo non esci e soprattutto più parlo più è peggio è quello del grosso problema allora togliamo un po' tutti i pallini qui cos'è che mi manca questa ok e andiamo ad aprire le due uova ovviamente vado a bruciarmi vivo perché si allora ce la facciamo uovo draconico gigante ennesimo jormunt ignis vabbè è sempre esperienza che entra però che palle una certa peraltro se io andassi qui abbiamo questi due qui quindi facciamo anche modalità smantellamento e qua ci metto l'uovo gelido super uova anzi uovo gigante ardente quindi vediamo quale incredibile pal di fuoco troviamo e perché è proprio ragnahawk e invece no blaze vediamo subito scopriamolo e dove sta più che altro eccolo ah si l'ho intravisto questo appunto nella zona vulcanica finici sempre per mangiare carne cotta corrotta pur preferendo la sana i suoi artigli scuri contaminano la preda prima che riesca a portarsela alla bocca qui c'è la versione normale ma è che cambi tantissimo ma vabbè ci sta e zar grazie per i 21 mesi buonasera è da un sacco che non rientro in live e dato che questa sera non avevo molto da fare eccomi qui di nuovo questi ultimi giorni mi sono recuperato il finale della serie di Hollow Knight volevo chiedere se alla fine hai continuato a giocare l'off camera e a che punto sei arrivato avevo continuato un po' poi vuoi la mancanza di tempo è anche un po' che non non ero proprio motivatissimo non ho più continuato mi ricordo che avevo sbloccato un boss forse di un DLC no un personaggio di un NPC di un NPC di un DLC e poi non so che fa però è rimasto lì e carne e carne corrotta si vede che tipo la tipo velena direi non lo so la carne corrotta potrebbe essere maledetta o velenosa detto tutto ciò qui stanno lavorando li lasciamo un attimo finire noi avevamo creato la macchina per fare le cose super fregne qui e se andiamo a recuperare del Paldium posso farmi lo Scudotera che mi sembra anche un'ottima cosa quindi qua purtroppo il Paldium non esiste però 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 aspetta ce l'ho l'abbiamo messo a lavorare si è un po' poco però dovremmo esserci proviamo a battere qualche boss stasera spero di sì guarda spero proprio di sì quindi dicevo Scudotera epico andiamo a farlo quindi ci potenziamo la macchina per le ball invece prese le ball che hanno fatto andrà distrutta perché possiamo creare quella delle sfere 2 ma attenzione ci serve altro Paldium e soprattutto i lingotti di metallo raffinato quindi andiamo un attimo a vedere se innanzitutto avete raffinato i lingotti direi proprio di sì questi quindi li spariamo qua poi qua ce ne erano già altri da fare molto bene il Paldium arriverà presto se si sbrigano altrimenti posso andare a farmarlo che facciamo lo vado a farmare al volo ne devono fare 50 diciamo che è un po' lento se no nel mentre vediamo di fare qualcos'altro allora ad esempio il potenziamento qui e a questo punto io direi che il livello massimo sarà il 20 mi sembra anche abbastanza logico mi richiede la fornace elettrica e la fornace elettrica richiede fibra di carbonio e polimero oltre che circuiti l'ingotto di metallo raffinato e diventa un po' sbatta fare tutto bisognerà farmare tanti materiali quindi l'obiettivo di stasera per rispondere sicuramente cercare di progredire il più possibile mettiamo a lavorare tutti i materiali possibili mentre farmiamo mentre esploriamo mentre facciamo cose dovremmo essere un po' multitasking diciamo così e si dovrei cambiare il pal che sta lavorando alla macchina per fare il pal di quello sicuramente e questo qui invece 1045 di scudo anziché 540 minchia niente male allora come pal d'acqua io solamente lui in questo momento relaxaurus si beh a livello 2 non è che cambi tantissimo surf al livello 2 e panking livello 2 anche lui in realtà non non è proprio top ah se vedete che mancano dei pall è perché li ho anche venduti siccome continuo a catturarne per fare livelli iniziavano ad essere troppi li ho venduti in modo da da liberare un po' e da fare un po' di soldi tra l'altro posso tipo oh aspetta ordina per enciclopedia perderò il mio box speciale però quasi quasi che dite potrei ordinare tutto questo qui livello 2 ok ecco livello 3 azurob oppure susaco è livello 3 diciamo che per susaco avrei altri piani ero convinto di averne catturato uno di lui sì io direi di fare così allora via selarei e dentro azurob che dovrebbe essere molto più veloce a fare tutto quindi anche a lavorare il pallium che ci servirà lo vedo live da un po' in realtà anche stasera non posso restare posso avere un saluto veloce ciao chiarotta per migliorare per migliorare lo zafferano cosa c'è scritto quando giochi a pall war c'è meno gente però io ci starò sempre quando posso non è vero che c'è meno gente mangia come un porco sì purtroppo i pall che lavorano di più o quelli più rari diciamo mangiano davvero tanto però finché abbiamo una buona scorta eh a proposito di buona scorta dove cazzo è finito il cibo non c'è più abbiamo un piccolo problema mi sa anche io non è che ne ho tantissimo quindi se questi continuano a mangiare così è la fine possiamo buttarli dentro intanto tipo del pane o qualche stupidata che ho lasciato in giro sarebbe questo la farina di grano non si può mangiare credo no però ci potete fare il pane aspetta facciamo così allora prendi questa cerchiamo di salvare il salvabile col panino e qua butta dentro questi sì siamo tipo spacciati mangiano decisamente troppo se avessi del cibo qui sarebbe top se no potrei andare a rubacchiarlo nella colonia anche mi sto chiedendo ma a sto punto non stanno più farmando sti infami eravamo pieni rasi di cibo non producono più perché secondo me la lattuga non se la caga l'ho messa qui diciamoci la verità le bacche le fanno però non sono neanche così efficaci facciamo così allora la lattuga la sfanculiamo qua buttaci dentro tutto e ci facciamo l'altro campo di grano è troppo grande facciamo due campi di bacche dai faddler levati dal cazzo faddler fa il bravo e niente ma come non ho risorse non è vero levatevi boh lo mettiamo qui ma che casino non si capisce niente no qua davanti alla scala magari no io ero convinto di avere un un campo qui in precedenza mi sembra strano che non me lo faccia mettere e quindi glielo mettiamo qua dai via qui il pane lo sta facendo possiamo spostarlo e bravi che iniziano a fare bacche andiamo a rubare altre bacche nella colonia così spero di sistemare sì avevo tolto i campi perché stavano solo lì a lavorare non facevano il resto ed era un po' problematica la faccenda qua invece si godono la bella vita queste li togliamo subito ragazzi e poi si ha iniziato a non bastare più evidentemente quindi per ora sistemiamo e poi staremo a vedere ok risolto allora il pallium come siamo messi siamo messi che ora che abbiamo il pall nuovo si lavora a una velocità assurda molto bene per cui dovremmo avere tutto l'occorrente per fare la nuova macchinina dove sta per le sfere eccola quindi probabilmente sarà più grande della precedente quindi richiederà più spazio il che mi spaventa un po' però proviamo a metterla ugualmente dai su che lentezza che palle sta cosa che devo allontanarmi 3 km per fare quello che devo fare aiuto ok mettiamo tutto qui un attimo mettiamo il resto qui e andiamo a fare quella nuova ero lento perché ero pieno di di oggetti e superavo il peso massimo ok si è gigantesca questa però ci sta direi sarà dritta mai nella vita probabilmente ma si dai vediamo no è drittissima va bene si gode andiamo a produrre queste ball con i macchinari che entrano in casa perfino ma va benissimo così e ovviamente mentre costruiscono seconda pausa soffiata di naso direi che vita bevo anche muore e riappare è bellissimo sì assolutamente beh in caso ti bughi premi muore e riappare ci sta ok quindi fatta questa come potete vedere abbiamo anche queste rubine qui la sfera leggendaria richiederà però il lingotto di metallo di pall ovvero il lingotto che facciamo con questa fornace dove cazzarola è finita per la quale non ho più una sega di niente perfetto quindi cerchiamo di di metterci al lavoro per produrre il necessario ad esempio ci serve un sacco di polimero che richiede un sacco di olio di pall e quindi sapete che c'è andiamo a comprare l'olio di pall partiamo da quello e qui ricordatevi sempre di idratarvi sì però cancabaia non morde marty diciamoci la verità staccati ma tu non vendevi l'olio di pall dove dove cazzarola sta sei uno scammer non c'è e allora ci andiamo qui vediamo qui in questo momento non riesco a respirare dal naso è tipo sigillato con con il cemento fastidiosissimo salve signor mercante era lei che vendeva l'olio di pall massimo esperto di olio di palle nel mondo di pall world io esagero e te ne compro 60 visto che roba ho appena finito di montare il nuovo case non puoi capire il casino per il cable management è venuto bene i led blu e i bianchi sono una hit bravo capisco il casino infatti l'ultima volta io non l'ho fatto l'ho lasciato fare a un'altra persona perché figurati eh 60 oli di palle sono tanti cioè sono sono praticamente 60 palle sono 30 cazzi quindi 30 palle vai lasciamo fare questi 36 nel mentre ma come una ne posso fare vabbè fanne una una sfera ultra che bello la voglio provare la sfera ultra allora qui ha smeltato tutto bene qui è nato il carbone molto bene picconcino e iniziamo a fare questi 25 però ci manca il minerale metallico d'altro canto giusto e allora andiamo nella nostra bellissima colonia dove sicuramente avranno lavorato e prodotto tantissimo vediamo un po' 222 ci sta facciamo così qui abbiamo il pane che possiamo già spostare e qui ne facciamo la trentina in realtà sì perfetto bene direi che stiamo procedendo abbastanza bene no non erano due chili che portavamo sì due k chili giusto è scritto bene erano due k chili duemila chilogrammi avete già fatto i polimeri ma siete ma siete davvero bravissimi allora oggi bene mi servono dieci circuiti ora fai lì dieci circuiti me l'ho fatto anche già la sfera molto bene e queste li buttiamo qui dopodiché mi servirà la fibra di carbonio la fibra di carbonio come si faceva mi sa che si lavora sempre in quella macchinetta lì allora facciamo una bella cosa mi sembra che riusciamo abbastanza in fretta a sbloccare la fornace potrebbe sembrare potrebbe servire altro polimero vabbè nel caso scioppiamo e via però nel mentre si fa una capatina qui armatura per il gelo se non ricordo male c'è il carbone è pietra allora il carbone l'avevo trovato nella zona vulcanica in realtà quarzino lo prendiamo lo stesso direi può sempre servire no questa è pietra sì avevo segnato il posto però è un po' defilato mi scoccio l'attimo anzi questo non lo mettiamo qui come sono pesante sono pesante ogni due secondi forse alla fine dei conti dovevo aumentarlo sì il peso godo che hanno già fatto tutto il pallium allora vediamo vediamo per questo per questi circuiti manca uno e allora visto che ne manca uno pausa Fatto Per quanto riguarda la fibra di carbonio Richiedeva il carbone o i resti carbonizzati Noi andiamo nel cil di resti carbonizzati direi Me ne servono 20 Quindi facciamo Aspetta quanto mi richiede 5 resti per una fibra Quindi 20 per 5 100 ne devo fare E noi ne facciamo 200 Anzi questa fornace Non è che la devo usare spesso Però vabbè dai 200 va bene Facciamo 200 E per quanto riguarda il carbone Sì potrebbe essere l'ideale fare una base Qua Avere un tp rapido ci permetterebbe di andare E prendere il carbone a piacimento E insomma facciamo una base solo per il tp appunto In quel caso ci basta fare così Giustamente non me la fa piazzare Perché ce n'è già una E allora è Un paldium 8 legno e 3 pietra Vediamo un po' Allora Un paldium 3 pietra E 8 legno Dove cazzarola sta Allora io so di avere del legno Non so dove sia Eccolo Bene Nel mentre Non è che io riesco a fare L'aliante Upgradato Vediamo un po' Eh no Richiede fibra di carboglio Eh infatti Ne stiamo preparando di più Così saremo preparati a tutto Bene Bene ci sta Allora Si dorme E poi si va A Tanto qui Ne mancherò solo 9 di statuette Top Dicevo Dormiamo E poi si va A fare la base Quindi Il terzo box Per ora Lo usiamo Per fare un checkpoint Che ci permetterà Di andare A prendere un sacco di carbone Ogni qualvolta Servirà E in realtà Vi dirò di più Ci servirebbe anche Una scatolina 15 legno 5 di pietra Quella base Va benissimo 5 pietra 15 legno Bene Ci siamo Quindi Si va Qui E poi Scendiamo Con l'aliante E vediamo Cosa riusciamo a fare Qua fa caldo Potevano fare L'armatura finale Tipo Universale Caldo Freddo Cioè Ti mantiene Tutto Fa vedere Una cosa Ma come 2% La sfera Nuova Fa solo 2% Di cattura Che merda Che serve 2% Cioè Ok Non era indebolito Però Mi aspettavo Già qualcosa Di più Allora Dove sta La zona Sta Molto Più Di qua Direi di far uscire Elze Allora Signore Elze Dove stava L'area Che abbiamo Visto Stava Più sotto Sono nuovo Su twitch Ma su youtube Ti seguo da tanto Benvenuto Agented Se hai la tua Prima live Non mi becchi Al meglio Della forma Sono raffreddatissimo Sembra che ho il fiatone Perché ha il naso chiuso Quindi se parlo Non respiro Eh ma qua ci sono pure Gli stronzoni Che spolano Che sbatto Spero non rompano Allora Torna E facciamo Quindi PC Lo piazziamo Ma anche qui va bene Forse rino Eh sono riuscito a dormire Diciamo che stanotte Aspetta Mi si è leggermente Stappato E stanotte Ho dormito A rate Perché continuavo A svegliarmi A soffrire il naso E quindi È stato un po' così Un po' palloso Eh qua ragazzi Facciamo Incetta Vabbè Dormire col naso chiuso È una merda Comunque Cioè poi Se hai pure mal di gola E respiri con la bocca Ti secca tutto È un disastro Sì chiaro Poi se Se ti stanchi A tal punto Che non ce la fai più Crashi E dormi Sì Ci sta Dice Un certo punto È inevitabile Solo pesante Tutto qui Tanto questo carbone Pesa tantissimo Apparentemente C'è di buono Che con questo carico Già di per sé Facciamo Molti lingotti Per un po' Siamo nel chill Spero Questa pietra Questa pietra Sì E allora guarda Lasciala direttamente Vaffanculo Mentre lì c'è una cosa Bellissima da prendere Sarebbe carino Fare L'update finale Proprio oggi Se non muoio prima E' il zephyr Andiamo Bene Ok Possiamo tornare Quindi Adesso cosa facciamo Facciamo così Carbone Vado Super pesante Però mi giro Mi tipo direttamente Facciamo due passi E boom Fatto Qui stanno smeltando Qui pure Iniziamo a prendere questi Questi qui Li butto qua dentro Questi pure E il fibre di carbonio Me ne servivano 20 In realtà Ne ho già 3 Quindi 17 Poi Ne serviranno altre Dopo Effettivamente Tanto vale Ah però E costa tantissimo E' vero Me ne servivano 100 però Aspettiamo un attimo Nel frattempo Uova Pronte Scopriamo Cosa c'è dentro Kitsun Ha un carattere sensibile Si rifugia nelle grotte Al minimo fastidio Quando cadeva Gli antichi Lo interpretavano Come un presagio Di sventura Questo è nuovo Che cos'è Kitsun Ah ma Mi ha registrato Jetragon Manco lo sapevo E' l'ultimo PAL Cioè Come avevo immaginato Ovviamente Guarda qui Ecco qui Kitsun Credo di non averlo mai visto Questo vetto Richiede ancora un po' di tempo Ma intanto Li buttiamo dentro Anche l'altro Che stava Qui Grazie per i sette mesi Cuchina Volevo fare la sub In survival Skyblock Ma la Pubblicità Dà troppo fastidio E allora Bentornata E bentornato Anche a Keldario Grazie per i trenta mesi Non so cosa scrivere Ti auguro Il Peggio In questa sera Ah vabbè Il meme Ancora Che il Dario Non funziona Così Il meme C'è solo Quando leggo Le resav di Marti Mi dispiace C'è C'è il fatto Il fatto di leggere Tutto al contrario Ti auguro Il peggio In questa serata Dovrei leggere Il meglio Però Non Se no Non ne usciamo più È un'esclusiva Di Marti Mi dispiace Mentre qui Ci siamo Buono E quindi Facciamo 100 di questi No 21 Che 100 100 resti 21 ne escono E poi Teoricamente Avremo tutto L'occorrente Per fare Il La fornace elettrica Eccola qui No Mi serve altro polimero Non era bastato Il polimero Di prima E Allora Dobbiamo tornare Alla città A scioppare Altro Mamma mia Che casino oggi Torniamo alla città Intanto mi soffio il noso Di nuovo Siamo a un'ora di live Vabbè dai Tutto sommato Cos'è la quarta interruzione Ci sta Cioè in realtà Se non fossi in live Avrei soffiato il naso Quattro volte tanto Mi sto trattenendo Amico mio Bisogna spremere altre palle Di pal qua Lo so Va così Dammi stoglio di pal E poi se i polimeri Sono così importanti Ma Cristo Cioè ma Fammi ottenere Un po' più facilmente Dovrei andare in giro A farmare Uccidendo tutti Dai si Dammi altri 60 Così non ci penso più Però Per ora i soldi li ho Eccoci L'avete già fatto Ma sono velocissimi E che succede Oggi Sono davvero veloce A fare A lavorare qua Credibile E allora vai Dateci dentro Facciamo sti cazzo Di polimeri Ma sei tu Forse che sei veloce No tu non c'entri nulla Ma che roba Eeeh 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 Wixen Wixen è velocissimo A far tutto D'altronde Il lavoro manuale 3 Vedete L'altre volte Non lavorava Secondo me Hanno fatto Un aggiornamento Un mini update O qualcosa E forse Hanno aggiustato La priorità Dei banchi da lavoro Se no non me la spiego Intanto qua c'è Fadler Che non fa mai un cazzo Vedete È regolarissimo Fadler Come sempre Ok si mette Li qui Eeeh La fornace Eeeh Beh ormai la nostra zona fornace È lì Quindi io Insisterei qua E farei Vediamo se me lo fai fare Più che altro Perché non lo so Vado Si può fare Facciamo Ah ma è il contrario Aspetta No 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 Così no Così Fornacetta Elettrica Aspetta Non è che richiede L'elettricità Eh mi sa di sì Solo che Non credo che vada messa là Di fianco Al generatore Cioè non penso C'entri sta cosa E credo che il generatore Generi Per Per tutta la base Alla fine dei conti Vabbè Aiutiamoli Sì sì Ora le bacche Stanno salendo Ho visto Molto bene Mi sembra che stia girando bene la base Proprio Stranamente eh Non so come sia possibile Benvenuto Gamerfire Quanti volti nuovi Oggi Questa è una struttura Che richiede un sacco di tempo Però ce l'abbiamo fatta Scegli la ricetta L'ingotto di pall Ovviamente richiede Anche Il Paldium Cosa simpatica È che Queste fornace Non servono più a nulla Ma io le terrai appunto Per fargli Per produrre Le altre cosette E a questo punto L'ingotto di pall Aspetta fammi Rivedere un attimo Quattro minerali metallico E due paldium Guarda Facciamo così Abbiamo modo Di farne un casino Facciamone un casino Di sto paldium Via 400 paldium E Iniziamo a mettere A lavoro Sti 42 Con i quali Ho finito Il minerale metallico Ma Nel frattempo I nostri amici Quaggiù Hanno lavorato E ovviamente Hanno prodotto Un sacco Vero 84 In realtà Avete fatto Abbastanza schifo Se devo essere Sincero Avete fatto Un po' Cagare Aiuto Va bene Beh Eh Sì potrei magari Prendere io stesso Un po' Di minerale Però Adesso Che abbiamo fatto Tutto ciò Non ci resta Che fare L'upgrade Di questo Ah e siamo già Al massimo Potenziate al massimo Perché non stavo Raggiungendo Il 19 Ero al 19 Beh ragazzi Abbiamo appena finito Di maxare la base Abbiamo concluso Il primo obiettivo Della serie Beh GG a noi Pensavo di sbloccare La quarta base Effettivamente Però pare di no Bene E adesso Con questo Nuovo lingotto Dovremmo sbloccare Anche un bel po' Di cose interessanti Perché Non so se Le posso creare Ancora Perché poi Ci servirà anche La La L'upgrade Qui per Cos'è sta roba Ah sono quelli Che sparano in murales Vabbè Dicevo Mi servirà L'upgrade Anche di questa macchina Però intanto Possiamo fare Spada Possiamo fare L'armatura Di metallo Raffinato Per il gelo Che in realtà Non serve un cazzo Quello che a noi Servirà Sarà Questa robetta Qui Che richiede Il metallo Di pall Ehm Tra l'altro Se me ne hanno Già fatto Un po' Potrei già Pensare Di far Qualcosina E poi C'è Il fucile Che richiede Però il metallo Raffinato Ok E l'armatura Di metallo Di pall Eh ragazzi Ci siamo quasi Sta Stiamo arrivando Al finale Diciamo così Almeno da questo Punto di vista Qui stanno Lavorando Molto a rilento Da quel che vedo Ci sarà Un motivo Particolare Richiede così Tanto tempo Fare sta cosa Vediamo un attimo Abbiamo in giro Due wixen E ho questo Flambelle Ad esempio Che non è molto utile C'è busci Non è che ho Qualcuno Che smelta Di livello 3 Tipo lui Mangia tanto Però Abbiamo sistemato Il cibo Allora Facciamo uscire Ragnhawk Che può Spostare oggetti E può Smeltare Quindi se io L'assegno qua Vediamo se ci va No Lui Sente Stardito A spostare Gli oggetti Servirebbe qualcuno Che Si dedica Solamente A quello Allora Yormuntide È di livello 4 Tanto che Meme Sono tutti Femmine Anche l'ultimo Uscito È femmina Ah no Aspetta Non era Questo Era Questo qui Forse Vabbè Niente Yormuntide Venga Salve Tu puoi Solamente Smeltare Non sai fare Altro E sei di livello 4 Quindi se ti Piazzo qui Tecnicamente Non mi sembra Molto convinto Però tecnicamente Dovrebbe poter fare Cose utili Ok Vediamo Beh Andiamo decisamente Più veloce Così Ma proprio Decisamente Molto bene Poi volendo In realtà Io qui Un po' di Di raffinato Ce lo metto Lo stesso Mi può sempre servire Qua c'è il carbone Volendo Prendiamo anche questo Sì Il fatto Che è molto Ingombrante Lo so Occupa un sacco Di spazio Però Finché Non si bug Non fa stronzate Non mi va anche bene Non farei Lo schizzinoso Bene Arrivato a questo punto Ha iniziato A girare tutto Il prossimo obiettivo Di crafting Al di là Della sfera Che adesso Metto a fare Che almeno Una Così pronti via La vorrei avere Ci servirà La produzione Di armi In serie di armi Due Che è a livello Quarantasette E quindi Dovremmo ancora Livellare Un po' Teoricamente Se mi fai Un altro Lingottino Tu Posso farmi Tre sfere Leggendarie Si potrebbe Quasi Usare Permettersi Di Andare a disturbare Il leggendario Perché me ne fai fare Una Perché Ma do Le fibre Di carbonio Mancano Che palle E non se ne esce Mai Da sta cosa Incredibile Vai Facciamo Le fibre Di carbonio Questa Questa sfera Praticamente Va usata Come Sfera Da cattura Colpo sicuro Cioè Non te la puoi Giocare Così tanto Per Mi sembra Di capire Con il costo Che ha E' Un bel problema Torniamo Perché la fornaccia elettrica Non va da sola Senza i pal Che fornaccia è Questa è un'ottima domanda La fornaccia elettrica Non va da sola Ma richiede Un pal Per Per cuocere In più Richiede anche L'elettricità E io devo soffiarmi il naso Che palle Cioè Diciamo che E' un po' Una puttanata Perché io mi aspettavo Un'automazione Stile Non dico Redstone Però quasi Cioè L'elettricità La produce Con un pal E il resto Funziona da solo In realtà Ha un requisito In più Cioè serve Quello che smelta In più Quello che fa L'elettricità Che è un po' Una stupidata Però è così Allora Un ovetto kinder Ce l'abbiamo Da mettere Che peraltro Sto ignorando Il fatto Che era Un pal Nuovo Adesso vediamo Che cos'era Non l'avevo mai visto Anche questo Ah E' sempre Van Wyrm Però versione Ghiaccio I fischietti Costruiti Col suo Esoscheletro Si sentono Perfino Dalla cima Di una montagna In passato Annunciavano La vittoria In battaglia Bella questa lore Il suo Dava via Il via alle battaglie Il suo Annuncia la vittoria Quindi anche la fine Figo Ci sta Bene Vediamo se Hanno fatto I bravi bimbi Stanno lavorando Dai Stanno facendo Voglio mettere Altre due sfere Leggendarie E con tre sfere Leggendarie Andiamo a fare I Pazzerelli Praticamente Ho tutti i tipi Di sfere In questo momento Pensate se Per sbaglio Premessi Q Come al solito Mi parte A casa Una sfera Però mi parte La sfera Leggendaria Sai che Beffo Incredibile Mi sono perso Un paio Di upgrade Probabilmente Sì Ne abbiamo Fatti molti Ma perché Mi mollate Mi stavi dando La mano Te ne vai Ma sarai Stronzo No allora Non succede Che la spreco Perché Mi sto Forzando Di ricordarmi Di tenere La sfera Base Selezionata In modo Che se parte Parte quella Base E non mi interessa E tanto Ne abbiamo 30 per terra Non le ho nemmeno raccolte Quindi non è un problema Però sarei molto curioso Di prendere questa Di andare tipo Da Da Astegon E vedere cosa succede Se gliela lanci Perché inizia a farsi interessante La cosa Ma non dobbiamo avere fretta Perché il prossimo step Sarà Tentare Di sfidare Direi Ormuntide Quale di due Questo Non lo so Diciamo lui Sfidiamo Ormuntide Ragazzi E a livello 45 I miei pal Attualmente Sono tutti A livello 40 Dato che Mentre stiamo Facendo cose Loro stanno Anche livellando E si gode Direi anche Si gode Davvero parecchio In vista di altri Upgrade Io direi che Qua Visto quanti Ce ne servono Li butto Un 500 Come ho fatto Ad alzare Di 100 L'improvviso Ma sono sognato Vai 500 Easy Bentornato Danilo Bellissimo Questa serie Di Fallward Mi rilassa Parecchio A fine giornata Ci sarebbe Ancora più Più nel chill Come una serie Di vintage story È davvero Un gran bel gioco Ma ragazzi Ma non ho capito Se ci sono in chat I PR Di vintage story Perché Tipo Ogni live Mi dite Di riprovarlo Io l'avevo Già provato Ce l'ho in lista Però non so Se quando Lo farò Però prima o poi Voglio farci Un video In cui lo riprovo Potrebbe non essere Neanche tanto lontano Il giorno Non saprei In live Però In live Forse no Sapete cosa Mi sarebbe piaciuto Fare in live Ma è uscito Insieme a Fallward E quindi Poi Non C'è L'ho saltato Praticamente Si chiama Enshrowded Ed è Un Gioco Survival Che usa La tecnologia Voxel Che è una cosa Concettualmente Simile a minecraft Praticamente Voi immaginatevi Un mondo gigante Con dungeon Stile medievale Missioni Quant'altro Un po' tipo Alla skyrim In realtà Lo paragonano A valeim Che però Non ho mai giocato Intanto andiamo Però La particolarità Che tu Lì dentro Puoi costruire E puoi Scavare Praticamente Cioè tu puoi trovare Una zona La claimi Una volta claimata Puoi fare robe Come scavarti Le grotte Costruire case E Diciamo che Di base Come se ci fossero I blocchi Però non sono blocchi Sono modelli Tutti Fatti Fatti bene Che però Se vai Un attimo A cogliere Il lato tecnico È come se fossero Di base Cioè l'unità base Come se fosse Il blocco Solo che A differenza Di pallward Dove la costruzione Non è un granché Infatti Ho un po' Rinunciato All'idea Di fare una base Più figa Lì Puoi fare Delle cose Davvero Molto belle E il sistema Di costruzione Pare sia Davvero Molto comodo E molto apprezzato Mi è capitato Oggi un tiktok Di questa persona Che si era fatto Una casetta In questo gioco E Cioè L'aspetto Che ha la casa È quello che avrebbe Una casa In minecraft Però Minecraft Pompatissimo Di mod Le mod Per togliere I cubi E Shaders Sparate Cioè È davvero Molto bellino Solo che Probabilmente Mi frigge Anche la scheda video Allora Signor Fox Non match Molto bene Lo sappiamo tutti Però Livello 40 Tu sei Tu sei il 40 Lui è il 45 Vediamo che succede Dai Vada Fox Ora fai tu In realtà Relaxaurus È la scelta migliore Contro di lui Sapete che Puttana Che male Sapete che Fox È forte Quindi volevo provarlo Vediamo Relaxaurus Cosa li fa Che è super efficace Teoricamente È super efficace Oddio Non sono sicuro Dovrebbe Dovrebbe Bravo Relaxaurus Bello questo attacco Mi sei piaciuto Perché è finita La musica L'ho fatto davvero Mi è partita la leggendaria Mi è partita Ho sbagliato tasto Ragazzi Volevo vedere la percentuale Mi è partita la leggendaria Muz È successo Niente E vabbè Ossidia Grazie di 51 mesi Abbonata senior OG Vabbè A 50 mesi Il titolo senior Ci sta tutto Direi Bentornata Era la ultra? Ah sì Forse era la ultra Aspetta Caputana Che male Scudo Scudo Ricaricati Scudo Scudo Sì era No Era la leggendaria Ragazzi Confermo Ne ho due Ora Dov'è Cazzo è il mio scudo Che questo Se mi sfiora Sono morto Ok Si sta ricaricando Ora Allora, Relaxaurus Ci sei quasi Bro? No, 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 cazzo No, non si fa così Non lo accetto Basta sti problemi E è sceso È andato in paradiso Chi è che hai colpito, te? No, dai Dai, ragazzi Che palle Che palle quando fanno così Si è buggato Era morto, praticamente Segnarci un bug Ma io non so come sia successo Ho fatto qualche interazione tipo knockback Però si vede che Gli è partito qualche valore sballato Ed è volato in cielo Adesso rispone a full vita, sicuro E' già successo tanto Ecco Era morto E niente Che dire Che dire Il problema è che adesso Cioè, i miei pall E io stesso Abbiamo poca vita Quindi Fa un po' schifo Sta cosa Potrei aspettare un attimo Che ci rigeneriamo tutti Cioè, era fatta proprio nel chill Non so se vi rendete conto Dai Vada Relaxaurus Vai Relaxaurus Relaxaurus Svegliati Santo cielo Ce l'hai dietro Ma che cazzo fai? Me ne vado Non attacca Cioè, prima mi vola via il boss Poi non mi attacca Cioè, allora non devo farlo Capito? Allora Torniamo un attimo in base Che intanto ci riposiamo E sistemiamo tutto E io che oggi volevo Puntare a fare A tentare un leggendario Fare il pazzo Altro che Allora No, Fadler Cosa sono sti versi? Sta dormendo di giorno Non è un buon segno Ah, devo recuperare gli oggetti Giusto Eh, pausa Eccovi Allora Vediamo un po' la situa qui Qui hanno L'ingottato La grandissima Qui hanno Carbonizzato La grandissima Butta via Tutti questi Qui vedo Della pal di ummanza Di qualità L'ingotti di metallopal Cioè, è incredibile che Mi manca il minerale Metallico in tutto ciò Non avrei mai detto Che tra tutto Mi mancasse proprio quello Qua come siamo messi Vediamo Eh, allora Se vogliamo fare un po' di Stilingotti Magari intanto Converrebbe Dargli una mano Beh, in realtà Loro hanno finito Tutte le fonti di metallo Mi sembra di capire L'hanno scavato tutto Quello che c'era Quindi devono aspettare Che si rigeneri Ma scusa Non l'ho appena raccolto Ma dove cazzo è finito? Poi quando Quando spona Ogni tanto Mi vedete che mi blocco così È perché non si muove Il personaggio Cioè, magari dite Ma perché Eren Sta fermo ogni volta? In realtà È il personaggio Che si bugga un attimino E a volte Non si muove Ecco Di nuovo Nooo Eh, vabbè Dai, non c'era ancora Stata Comprendo Niente La congrega degli ignoranti Mi sta attaccando Ah no, ma aspetta Ma sono dei pal Ah, si sono portati i pal Stavolta Sono a livello 39 Si stronzi Tanto la congrega del fuoco Questi ci griffano La grande Bastardi Bastardi Sono venuti a griffarci Questi No, tornano indietro Porca troia Come vi odio Mamma mia Non avete idea Di che fastidio Mi danno Si stronzi Ogni volta La stessa cosa Fanno Dai Che devo fare L'attacco Dai Fox Fai Fai cose Cosali Ma come il karma Per la serie griff Ma Ma quanto tempo è passato Dai Cosa ci entra Beh io non ho mai griffato Nessuno davvero Cioè Si Erano griff Ma Erano Tutti real Mi invitavano loro E facevano i backup Cioè Mi invitavano sapendo Che ero un griffer Perché volevano fare il content Cioè Io non sono mai andato A griffare Realmente I mondi Altrui Mazzia però Quanta esperienza Che mi faccio Questi qua Palle Pall Fox Se vuoi fare qualcosa Anche tu Comunque Mi piace il fatto Che si buggino E quindi Stanno qua E si fanno menare Questo Capito Io volevo catturarlo Stavo dicendo Lo catturiamo Che è esperienza E si è buggato Il bastardo Niente Ma è una gioia Proprio Vabbè Io adesso Già Non mi ricordo Più Che stavamo Dicendo Un attimo Fa Comunque Sto Stavo Che tiro Poi Poi un'altra cosa Che vorrei Vedere E proprio Per quanto riguarda Fox Io avevo iniziato A catturare Altri Fox Parks Perché volevo Potenziarlo Il problema è che Non basteranno mai Nella vita Però volevo un attimo Capire A che punto eravamo Ah 32 Me ne servivano Sto giro No 32 Ragazzi Mi sa che Non ci siamo proprio Me ne mancano 17 Come non detto Mentre per quanto riguarda Questa roba qui Gli aumentiamo in PV massimi Direi di si Ehm Warsect Cosa possiamo fare Ti attacco PV Difesa PV Criolinks Attacco E Elzephir Ti facciamo in PV Bene Dormiamo La squadra è Semidefinitiva Non è definitiva Ma Non ho Diciamo in programma Di cambiarla Presto L'uovo L'uovo Si è quasi Schiuso Però Dato che Non ho Urgenza Io direi Che me ne vado Subito Da Yormuntide E rifacciamo La sfida Andiamo E' tentativo 3 Però C'è Detto così Sembra che ci abbia Sconfitto Due volte In realtà Come avete visto Oh Uno shiny Stai fermo Un po' Te Fai il bravo Fammi prendere Lo shiny Non so se Quello E' quello Base Grosso O è Il E' tipo Eh no È SWE Ok E' quello Base Però è più grosso Perché è shiny Preso Niente esperienza Perché ne avevo Già tanti Mentre SWEAPA Che è tipo Il loro capo E ora Sta scappando Ovviamente Ma che cazzo Lui lo dovrei catturare Perché mi faccio L'esperienza Eh vabbè E' morto Ovviamente Come l'ho detto Sto catturando Uno che non mi serve Per livellare Bisognerebbe Catturare Pall Con Il fatto Che se ne prendi Dieci Hai bonus Eccetera eccetera Si livella In fretta Però In queste live Non lo facciamo Quindi Lo sto Facendo Off camera Per ora Allora Yormontide Buonasera Ti provoco Ti lancio Relaxaurus Nella speranza Che questa volta Decida Di attaccarti Io nel caso Ti dico Attacca il mio stesso obiettivo Guarda Che ne dici Oh bravo Dai Va quanto Li togli L'attacco Elettrico E giustamente Va Li attacco Drago Dai prendilo Niente Non l'ha preso No Relaxaurus Stai performando malissimo Sto giro Devrò cambiarlo Molto presto Dai Relaxaurus Spara lì sto attaccone Bravo Bravissimo Cambio Vai Fox 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 ha un attacco Elettrico Ovviamente Fa attacco Acqua Perché è stupido E vabbè E poi fa l'attacco Fuoco Giustamente Fox Li fai il cazzo Di attacco Elettrico Se no ti cambio Subito Che è No Fox Rientra subito Stavi morendo Di nuovo Bello sto attacco Di Elzefyr Dassa segno Anche un po' Di più Però Ma non fateli Gli attacchi fuoco Santo cielo E io ora Montedo Ho capito Che sei pericoloso Però poi Non veniremi sotto A imbruttirmi Fai il bravo Dai Se ti lancio Una giga Gugliardica Niente Ti fa schifo La giga Contro Contro Drago Chi è efficace Drago è efficace Oddio Non so su chi è efficace Ghiaccio è efficace Su Drago Drago forse Su Buio Infatti Infatti Non matchiamo Benissimo Qua In realtà Aspetta Mi ha No Mi ha battuto Elzefyr Merda Siamo senza volante Non volare tu Stai giù Non buggarti di nuovo Dominatore dei mari Su E Criolinks Potrebbe essere Efficace Sì No no Criolinks Attaccalo Muoviti Criolinks Ti prego Ti prego Criolinks Vai a prenderlo Io mi devo soffiare il naso Ragazzi Intanto Rischio gigantesco Criolinks Dai Menalo Io proverò a catturarlo Considerate che ce l'ho già Lui Però Sappiate che Non ho intenzione Di insistere Voglio solamente Vincere la boss fight Questa è la mia Grande priorità Preparo le tera 031 Mamma mia Che merda Comunque Criolinks Bravo Criolinks Che l'hai pure confuso Che non so che hai fatto Però mi sei piaciuto Bonus di spalle 5% solamente Che merda Se ne sta andando Torna qui Perché Perché fa sta cosa Ti prego Torna qui Vieni a combattere Non fare scherzi No Criolinks Non morire Vai Relaxaurus Che sei tutto bello Fresco Ora Bello Questo attacco La ball Non si sa Dove è finita Chi lo sa Tentiamo la ultra Vabbè La ultra Ha un 14% Cioè Comunque Non semplice Vai Eliminalo 21.000 Di esperienza 36.000 I pall È fatta Io direi Direi che la ball ultra La skipperemo Di brutto Non ha Non ha proprio senso Direi anche Che ci giriamo E tentiamo Di raggiungere Questo Posto Così torniamo a casa Ma buonasera Lando Ma salve Grazie per le due Sabre regalate Alessio E Sonelio Benvenuti Questa volta Non è sceso Il che è un'ottima cosa Il problema È che Yormuntide Lo dobbiamo rifare Ce ne sono due Maledetti Quindi adesso Decidiamo un attimo Cosa fare Perché Io stesso Non ho molta voglia Di fare Il secondo Yormuntide Potremmo Valutare Di andare A caccia Di un leggendario Non tentare La cattura Perché secondo me È abbastanza Impossibile A meno che Non ci facciamo Davvero Tante sfere Leggendarie Non è una Grande idea Questa cosa Vero Come torno a casa Devo andare qui? Il fatto che Quando va Cap a un pal Non posso In alcun modo Riportarlo su Mi dà proprio Fastidio Allora Io Non so Se ho ragione Perché la sicurezza Non ci può essere Però mi sembra Abbastanza palese Che Ci sia Un quarto Leggendario Che non l'abbiamo ancora Visto Ma che Probabilmente È quella Statua Che abbiamo Visto in montagna Che probabilmente Sarà il pal Numero 110 E che probabilmente Lo troveremo Nella montagna Più alta Della regione Potrebbe essere Quindi carino Farsi un giro In quella montagna Per vedere Se riusciamo A trovarlo A vederlo Almeno Catturarlo La vedo Difficile Sarebbe Bello Fare Un try Di cattura Sul leggendario Però Ripeto Servono Molte Ball Legendarie Mi sembra Evidente Che Già così Non ci siamo Proprio E Con un leggendario Di livello 50 Probabilmente Se non hai Le condizioni Ideali Cioè Pochissimi HP E sfera Leggendaria Non c'è modo Di farlo entrare Allora Il viaggione Pazzo Verso L'albero Non so Se tentarlo Mai Perché Sicuramente Non si può Andare All'albero Cioè Esiste Sta lì Ma Non credo Proprio sia Un'area Accessibile Anzi Sicuramente Non è Un'area Accessibile Possiamo Possiamo Migliorare Le chance Di cattura Sì Infatti Questo Dovrà Essere Un altro Obiettivo Che Come dire Lo Assocerei Al Al Fatto Di Di Esplorare Una zona Che ancora Non ho esplorato Salve Non volevo Ucciderti Olio di qualità Guarda 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 caso Eccoci Allora Elzefir Vai a farti Il riposino Va Senza di tempo Non possiamo fare niente Ci sono due cose Che volevo craftare Mi stavo dimenticando Ovvero La sella Di water Susaku Si può già fare Il lancerazzi Di relaxaurus Che è leggendario Però Aspetta Io ho un relaxaurus Elettrico Ok Visto che c'è il lancerazzi Anche suo Io Aspetterai il suo Appunto Mentre la sella Di Susaku Costa Tanto Ah no Però Lingotti Raffinate No va bene Ci sta Facciamola Proviamo a farla Voglio Voglio provare Questo Quest'altro volante E capire se è Più o meno Veloce Di Elzefir Che cos'è? Anello di protezione Da ghiaccio Questo? Da dove esce? Me l'ha droppato il boss? Ho trovato in un In uno scrigno Probabilmente Fico Allora Vediamoci un po' Diciamo che questi anelli Sono belli Ma non ho ancora trovato Niente Di Eclatante Che ti Ribalti Una build Per così dire Pausa Per chi si fosse connesso dopo Ricordo che se mi vedete mutare E girarmi Mi devo soffrire il naso Perché sono Raffreddatissimo Comunque Detto questo Qui avevo messo a fare dei polimeri Vero? Me li ha già fatti tutti Possiamo farne un altro Io invece Direi di farmi Altre fibre Assolutamente E la sfera Leggendaria Ne posso fare Quattro Ok Iniziamo a farle Qui mi hanno formato il carbone Qui abbiamo altri resti carbonizzati Che effettivamente Potevo mettere a lavorare subito Ma non mi ero Ho reso conto Che fossero pronti Altro Paldium 50 Lingottini Nuovi Manca Il minerale Metallico Fa molto strano Però si Allora Le uova Andiamo a vederle Super uovo Verdeggiante Mossanda Ok Esperienza Esperienza Va benissimo Poi Uovo gelido Super Un reptiro Christ O Christ Forse no Però Altra esperienza Che entra Ottimo Intanto abbiamo dei pal Al 41 Quindi stiamo anche livellando Io avrei questo Ovetto qui Questo qui Non ce ne è uno qua Sì ho tutte Uova normali Adesso Non ho più uova Interessanti Io le metto a fare Però Cioè non Ci dobbiamo impazzire dietro Direi Ok Allora Lì non ci sta lavorando nessuno Purtroppo Ma gli ho dato un sacco di incarichi Quindi ci sta anche Vediamo se mi hanno fatto i minerali Da l'ho ancora deciso per la skyblock E Quindi Non ne ho parlato Niente Non ancora Ma io darei una mano Perchè non posso sparare Che succede? Boh Non l'ho capito Va bene Allora Adesso Non vorrei stare qui A fare i minerali Chiaramente È una live Di palwar più lunga del solito Possiamo anche permetterci di Di andare un po' più lenti Però considerate Che Sto aspettando Che Elzefier Torni in salute Dato che altrimenti Non ho il mio fido Pokémon Pokémon Eh vabbè Non se ne esce Sta cosa Non ho il mio fido Palvolante Che ci servirà Per Continuare L'esplorazione Perchè Adesso Quello che vorrei fare È appunto Esplorare E intanto Grazie a Matteo Che regala una sub A Demet Buonasera Matteo Questo lo schiaffiamo qui E Vediamo un po' Come stanno lavorando Da queste parti Allora abbiamo Quattro di queste fatte Qui siamo un po' indietro Quello me l'hanno proprio mollato Mannaggia loro Mentre qui Li spariamo altri lingotti Allora Mi servirebbe un Wixen Ok sta lavorando qua Venga con me Signor Wixen Venga venga Dobbiamo occuparci Di un'altra cosa Dobbiamo scoprire Se abbiamo una nuova Cavalcatura volante Qua Aiutami qui Stai facendo? Signor Wixen Che sta facendo? Non ho capito Dove sta lavorando Onestamente Ok Ora ci siamo Facciamo questa sella Allora Allora Diciamo che Se potessi utilizzare Susaku Come Come pal volante Potrebbe essere interessante Perché è anche un pal acquatico Che a noi manca E Insomma Mi spiace un po' Non averne uno acquatico In realtà una cosa Che mi disturba Di questo gioco È che ci sono 5 slot E non 6 Non capisco perché Tra tante cose Che hanno copiato Hanno voluto fare questo E Dato che chiaramente Avere non sesto Ti dava modo Di coprire un tipo in più Di contro Susaku È un pal Che ho trovato Nell'uovo Quindi è di livello 1 Sì Il fidato pal Volante Mentre pensavo Di sostituirlo Infatti Nightwing Ha fatto Quella fine lì Perfetto Quindi Mosanda Tu che cazzo Ci vai qua E Susaku Acqua È così qui Femmina Perché Quelli che escono Dall'uovo Sono sempre femmina Apparentemente Signor Susaku Vediamo un po' Di che pasta hai fatto Cavalca Ah Fico è fico Mi sembra veloce Che sia più veloce O veloce Allo stesso modo Questo non lo so dire Intanto Là già vedo Una statuetta La prendere Ci sono statuetta Ovunque in realtà Sembra più veloce Dite Beh Diciamo che Avrebbe anche senso Però Posso scendere Adesso Si è Buggato Non mi fa scendere Grazie Grazie Mi fai scendere Però Porca Mannaggia Quella che so io Grazie È il Zephyr Che è tornato Vediamo invece lui Come era Veloce Ti deve fare Tutta sta differenza Certo Lui è potenziato Non mi sembra Ci sia Tutta sta differenza Che dite Forse Mi terrei A Elzephyr A sto punto Perché È di livello 40 Se Susako Avessi modo Di catturarne Altri E potenziarlo Sicuramente Fa una bella Differenza La resistenza Non ci ho fatto caso Non l'ho guardata Facciamo un test Facciamo andata e ritorno Dalla statua Da qui Fino all'albero Ok Si Non è neanche partito Lo stronzo 3 2 1 1 2 3 4 5 6 6 secondi Metà Stamina Susako 1 2 3 4 5 6 Mi sembra Veloce Uguale La stamina Si è consumata Nettamente Meno Quello Si Pesa 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 Tantissimo Non so Cosa fare Perché Perché c'è sempre Il fatto che Uno è livello 5 L'altro è livello 40 80 Mentre ho un pal che ha gli occhi iniettati di sangue Che cazzo succede All'altro All'altro Wixen Che sta facendo Perché Doveva dormire e mangiare Qual è il suo problema Danno livello a veloce Livello a veloce Perché è a livello 5 Ora Allora Io Per adesso Mi tengo Elzefier Ci voglio pensare Voglio capire Se riusciamo a catturarne Altri Susako Per Appunto Fare L'upgrade C'è Vanwirm Ribanni Vabbè Tutta esperienza Anche loro Direi top Stiamoci dentro Sti due E' vero Sì Possiamo vedere in mappa Allora Susaku Dove sei Eccoti Aditat Notte Ah Non c'è Non esiste L'habitat Bene Cazzo Lui spona Nel deserto Quello Quello di fuoco Che è anche più fico Se devo essere sincero Lui non spona Sapete quando l'ho visto L'ho visto durante un attacco Non so se Se era in live Mentre farmavo Potrebbe essere Olli uova Oppure appunto Era sponato In un attacco Infatti ero convinto Di averne catturato uno Ma non è così Apparentemente Mi sa che per ora Lasciamo stare Va bene Spostamento rapido E partiamo E partiamo a esplorare Un po' Elzefier So che potresti aver sentito cose Ma sappi che la mia fiducia In te È incrollabile È la chat Che era un po' Dubbiosa Ah questo è un uovo gigante Così Subito Night Goding Partiamo Che bello Ah ragazzi Mi è venuta in mente Ora una cosa Martedì prossimo Dato che è un po' A tema Quindi possiamo Possiamo Dirlo qui Già adesso Martedì prossimo C'è il Pokemon Presence Mi sembra Non dovrebbe essere Direct Ehm Per il solito Anniversario Probabilmente Sarà l'evento In cui annunciano Il prossimo Grande gioco Si parla di tante cose C'è chi dice Un Let's Go Di Giotto Chi dice Un remake Di Unima O Bianco e Nero 3 Nuova Gen Si è parlato di un sacco di robe Ehm Tanto io sto cercando Che c'era un'altra statuetta Mi sembra Di Del potenziamento Qui da qualche parte Vedo se la trovo E no Quella l'avevo già presa Rip E quindi nulla Martedì prossimo Di pomeriggio Io sarò in live A seguire l'evento Basta Vi volevo dire questo Prima Dell'evento Che sarà Le 3 di pomeriggio Io Considerate Attaccherò Penso alle 3 Meno un quarto Quindi un po' Giusto a pelo Prima dell'evento Parleremo di Predict Vari Io Sono abbastanza Indeciso Su cosa potrebbero fare Per Il semplice Cioè in realtà No In realtà Ho un'idea Che sarebbe Effettivamente Il remake Di Quinta Gen Diciamo Diciamo remake Ma che possono essere Anche Terzo capitolo Anche se non ci credo Troppo Cioè non penso che Saremmo felici Dell'annuncio Però Diciamo qualcosa Di Quinta Gen Con possibile Remake a fine anno E leggende All'inizio Dell'anno prossimo E vi dico anche Il motivo Dato che Quest'anno Tanto partiamo Esplorare Quest'anno Era prevista La Switch 2 Che non sappiamo Come si chiamerà Però diciamo Switch 2 Di recente Si è saputo Che l'hanno rimandata All'inizio Dell'anno prossimo Quindi I giochi Pokémon In uscita Quest'anno Sono dei titoli chiave Perché Devono vivere A cavallo Tra la fine Della Switch E l'inizio Della nuova console E Se guardiamo I precedenti Potrebbe Si potrebbe Essere Che ti sparano Let's go Ma potrebbe Anche essere Che hanno La duplice Uscita Con Leggende Qrem In modo Da farle uscire Uno sulla Switch E uno sulla console Prossima Oppure a cavallo Tra le due Però Diciamo che Io mi aspetterei Una Cioè Mi aspetto Una cagata Come al solito E basta Se devo essere Proprio onesto Ormai sono Abbastanza Disilluso E la prossima Gen Invece Potrebbe essere Nel 2025 A fine anno Come gen Di lancio Della nuova console Nella speranza Che lì Riescano A fare Un bel Lavoro Con Insomma L'hardware Nuovo L'esperienza Maturata Con Scarlatto E Violetto Esperienza Negativa Usarei dire E magari Con un gioco Che Con dei giochi Che escono A due anni Quasi Dalla batossa Che gli ha dato Pallward E magari In due anni Riescono A implementare Qualcosina Per Diciamo Un moto D'orgoglio Per far vedere Che sono loro I veri Pokémon No I veri Boss Del genere Sì certo Qualsiasi roba Annuncia Non venderà Migliori Però Bisogna sempre Distinguere i numeri Dalla qualità Anche FIFA Vende Dei milioni Qua sotto Mi sembra Che tocca Andarci No ma ci sta che Game Freak Non abbia Esperienza Nei giochi 3D Però Voglio dire Budget Ce l'avete Perché Non possiamo dire Che non abbiano Soldi Che sia Game Freak Nintendo Dei Pokémon Dei Pokémon Company Tanto ci mangiano tutti Cioè Quindi qualcuno Potrebbe anche Far uscire Qualche soldo in più Le vendite Le fate Quindi avete tutto Modo e ragione Di investire Possono tranquillamente Attingere Dall'esperienza Degli altri team Nintendo Perché è una grande famiglia Alla fine dei conti Sulla carta Quindi Perché no Facciamola Mangiare un attimo E come hanno fatto in passato Possono anche affidarsi A un altro team Per fare Un titolo Potrebbero Semplicemente Assumere Dei nuovi Sviluppatori Rimpiazzare un po' I vecchi Sviluppatori Che Apparentemente Sono contrari Al rinnovamento Avevo letto Questa sorta di D'inchiesta Che avevano fatto Che era saldato fuori Da alcuni sviluppatori Più giovani Di Game Freak Che All'interno Dell'azienda Ci sono ovviamente I senior Che sono Quelli più anziani E sono un po' Quelli anche più resti A A imparare Le nuove tecnologie A cambiare Il metodo Di lavoro Però Comandano loro Quindi se qualcuno Propone di fare Una cosa Diversa E loro dicono Di no E no Quindi In poche parole Emergeva Da questa Da questa Inchiesta Che Apparentemente Ci sia un po' Un'area Di stantio Perché Si siedono Tutti sugli allori Cioè Il gioco Vende bene Hanno Il posto Di lavoro Sicuro Eccetera Eccetera Quindi se ne sbattono Un po' Le palle Essenzialmente Se neanche Palward Gli dà Una svegliata Penso che Non accadrà Mai Allora Cosa stiamo Cercando Qui Oltre A esplorare E basta Perché stiamo Caricando Una zona Che non avevo Mai visitato E stiamo Anche scoprendo Cosa si nasconde Sto cercando Di raccogliere I forzieri Che vedo Perché comunque Ci danno Materiali utili Cioè Materiali Risorse utili Svere Anime Talvolta Inoltre Sto Tenendo gli occhi Aperti Per le statuine Perché Ora ne abbiamo 30 A 36 C'è l'upgrade Finale Per il bonus Di cattura Che vorrei fare Oggi E infine C'è sicuramente Un leggendario Che si nasconde Su quest'isola Mi piacerebbe Trovarlo Fin quando il gioco Vende bene Nonostante sia una merda La game freak Si culla E pensa di aver fatto Un bel lavoro Fortunatamente Siamo in un'era Digitalizzata Dove i social Media Comandano Le critiche Fortunatamente Questa volta Ascolteranno i fan Insoddisfatti Forse Ma allora Io in realtà Penso che Game freak Ha fatto Ha fatto Dei grandissimi lavori Ha realizzato I giochi indimenticabili Nel loro stile Che Che andava forte Ora Stanno Un attimo Faticando Sto facendo una cazzata Vero si Stanno faticando Ad evolversi E Io non avrei neanche voluta Questa evoluzione Sinceramente Cioè mi stava bene Il vecchio stile Tutto sommato Però capisco che Tutti vogliono Sto 3d E tra l'altro Io anni fa Lo dissi Ragazzi Volete tutti Sto 3d Ma guardate che È un casino Cioè pokemon È nato Non è nato 3d È un disastro E poi infatti Hanno fatto una merda Cioè Si Si sentiva Un po' Il Il Puzzo Che stava Arrivando Però Finché hanno fatto Bei giochi Non c'era La critica Social Sicuramente Ma non c'era Nessuno scontento Erano tutti contenti Quando sono arrivati Social Hanno iniziato Anche a fare male Quindi si Secondo me Le critiche Che Gli dovevano arrivare Gli sono arrivate tutte E lo sanno Sanno anche Che vendono E che se ne sbattono Le palle Quello si Però Non puoi neanche Sempre Contare Sul Sulla fedeltà Dell'utenza Cioè Non è che ci saranno Per sempre A comprare il tuo gioco Se non ti impegni Cioè Se mi annunciano Let's go Che ne so Let's go Hooper Come ho letto In qualche rumor Che mi sembra Una cagata Comunque Cioè Nei leak Palesemente falsi Che però Dicevano Let's go Hooper E let's go Togipi Ok Se mi annunciano Una roba del genere Io Cioè Io ad esempio Credo che Skipperei Non penso che Che giocherei Quest'anno A Pokémon Certo Non è che Game Freak Dice Oh no Eren non ha giocato Corriamo ai ripari No Però magari Come me La pensano Sempre più persone E Prima o poi Le vendite calano Se non ti impegni Cioè Per forza di cose E alla fine I videogiochi Hanno iniziato A insegnarci Per fortuna Che la qualità Ripaga sempre La non qualità A volte ripaga Comunque Questo va detto Però la qualità Ripaga Se fai Se fai una cosa Di qualità Sei ripagato E poi sei anche Orgoglioso Perché alla fine Cioè È il tuo lavoro E sono anche un po' Cioè Senza un po' Sono anche artisti Quelli che lavorano Dietro sti videogiochi Ci sono disegnatori Ci sono animatori Che O chi fa Le mappe di gioco Insomma Cioè Penso che uno Voglia anche Essere soddisfatto Di quello che ha fatto Ma guarda un po' te Guarda un po' te Frostalion Livello 50 Non sono andato Troppo vicino Non me l'ha registrato Ma credo proprio Che abbiamo trovato Il leggendario A me lo stile Cibi Di una volta Piaceva Cioè A me manca tantissimo Quello stile lì Anche perché Sulla Switch Ci sono dei giochi Cibi Cioè Immaginate Animal Crossing Nessuno Nessuno va a dire Che Animal Crossing È brutto O graficamente È indietro È un gioco Che è pensato È fatto così Però A un certo punto Se al posto di switchare Il 3D Si dedicavano Anima e corpo A quello stile Che era il loro stile Che già conoscevano Cioè Magari avremmo avuto Dei giochi Davvero spettacolari Anche Stilisticamente Graficamente Non sarebbero stati 3D Però Cioè Se Pokémon Arriverà A fare un 3D Decente Un mondo aperto Decente Tra che ne so Altri due anni Come stavamo dicendo All'inizio Io Già Adesso Mi sono rotto Il cazzo Dei mondi aperti E non sono l'unico C'è già la percezione Generale In cui la gente Si è rotta e coglioni Sti mondi aperti Fatti per forza di cose Quindi se ci arrivano Ci potrebbero arrivare Pure tardi Pensate un po' Frostalion Leggendario Pegaso Glaciale Si faccia un po' Vedere Questo Potrebbe essere Anche un Vabbè A parte che è Suicun Però Potrebbe essere Un volante Di tutto rispetto Ma Non vorrei Risultare Un po' Offensivo Nei confronti Di Vossignoria Leggendario Però Porco Due Che male No Staccati Cioè Che succede Se Se la tento Cioè Sono davvero Così un pezzo Di merda Se la provo Gli ha tolto Già un migliaio Di HP Che non è male Certo Probabilmente Se mi colpisce Mi spacca Mi sfonda Totalmente Protezione danneggiata Infatti Merda Scappa Via Via Non è stata Una buona idea Non siamo pronti Serve L'armatura Finale Qui Allora A danni Che li facevo Poteva anche Andare bene Ma mi ha distrutto L'armatura In due secondi Chiedo scudo Signor leggendario Non volevo Mancarle di rispetto Come stavo dicendo Allora Cerchiamo di salire Alle terre Dello zero assoluto Così A tornare in base E Sistemare L'armatura Allora Il problema di SV era La mappa fatta male La grafica L'assenza di level scaling E la semplicità È tutto Mettiamoci dentro Anche una generazione Pokémon Non tanto brillante Tutto sommato Poi Una lore Abbozzata Il cui apice È Un Un segreto Nel Nel DLC A pagamento Poi Leggendari Pochi E con una Lore Discutibile Anzi Dei leggendari Che non sanno Di leggendari Perché in realtà Sono dei paradox Di un Pokémon Del cazzo Cioè Diciamoci la verità Non Non si sono impegnati Per niente Ha fatto proprio Un Bucco Nell'acqua Cioè L'unica cosa Che è buona Di quei titoli Sono le vendite Per assurdo Personaggi Alcuni carini Sì Ci sta Quelli Dei DLC Sono i più belli Comunque Però quando Nei DLC Da il meglio Di te Non è mai Un buon segno Allora Mi manca La stoffa Non è un problema Facciamola subito 4 di stoffa Siamo nanna E intanto Io mi soffio Il naso Allora Tra l'altro Dovremmo essere In seconda serata Quindi Alexa Spegni Prima luce Alexa Seconda luce Blu Ok Ora mi sento In seconda serata Schiudiamo Queste uova L'ennesimo Sailaray Che è Inutile E poi Si ho visto C'è un pal Con l'ulcera Uno SWE Inutile Va bene Tra l'altro Ho delle medicine Con me Tanto ho delle medicine con me Qua sono questi Ho 6 sfere leggendari Ne volevo fare almeno altre 4 E poi per un po' Stiamo buoni Allora Chi è che ha l'ulcera Sei tu Sì 4 Fai da mangiare Medicina Vai A posto Nel chilling Esatto Perché è proprio L'ulcera gastrica Ma che vuol dire È abbastanza strana Sta cosa Tra tutti I possibili malanni Ulcera gastrica Va bene Allora Qua metteremo A fare Altro pane Poi Perché è associata All'eccesso di stress Ah sì È strano che Non mi sia ancora avvenuto Niente del genere Anche se è lo strano mal di stomaco Che avevo avuto qualche tempo fa Chissà E sta farina Io dove la metto Ma poi perché mi è rimasta la farina Perché non Non l'ha Non l'ha messo nel pane Boh Ripara Metti questa Bene Allora Facciamo un giro di Di farming Come siamo messi qui Non benissimo Direi Vediamo la colonia Come sono messi Anche voi Non proprio benissimo Ok Allora Arrivati a questo punto Io Mi direi Di togliermi Dalle scatole Ah What Ma scusami Ma scusami Yormuntide Ne ho sconfitto L'ultimo L'ultimo Grande boss Che ci rimane qui È Anubis Perché poi Ci sono quelli Nelle Nelle varie isole Che sono decisamente Più tosti Io però Sì Magari A sto punto Possiamo fare Un tentativo Solo Anubis Anche se Probabilmente Ci spacca Vorrei Vorrei Finire Di Riprendere Le statuette Vorrei Pormi Questo Come obiettivo Allora Sentite Sto grano Però Ve lo Sistemate Voi Che io Mi sono Rotto I coglioni E Ad esempio Su Quella Vetta C'è Una Statua Però Quella Vetta Ehm Cioè Qual è Mappa Sarà Questa Penso Di sì Quindi andiamo Al bivio Dei ricercatori Eh Lo so Che è meglio Di notte Però Dovremmo Aspettare Per la notte A meno Che Eh A sto Punto Sapete Che facciamo Proviamo A fare Anubi Anubis Che Rischia Di Spaccarci Perché Comunque 47 Non è che Sia Tanto Distante Da Leggendario Di Prima Ah Peraltro Giusto Per conferma Finale Leggendario Era ovviamente Il 110 Eccolo Qui Caldo Lì Lì c'è La statua Ci sono Sicuramente Molte più statue Di quelle che servono Il che ci sta Perché rende la ricerca Che è meno frustrante Però mi chiedo Se esista A questo punto Una sorta di Achievement Pazzo In cui devi trovare Tutte le statue Esistenti Che non farò mai Perché sarebbe Solamente frustrante La leggendaria Sono 4 Ne sono abbastanza Certo Il 107 107 È sicuramente Il boss Della quinta Torre Che non abbiamo Ancora visto Peraltro Sarebbe interessante E che provare A fare una torre A sto punto Perché Cioè è possibile Che le torri Ancora Non siamo in grado Di farle Eh nobis Tu hai 4000 hp Eh Rispetto ai leggendari O Si va di lusso Non ha molti hp Dai Fox Facci un po' Eh Che male Fox Facci un po' Vedere Dicevamo Se attacca a me Sono spacciato Questo lo sappiamo Anche tu Non vedo Che non Eh vabbè Ho tirato una bolla A caso Niente Metti Relaxaurus Cos'è che vogliono Sti qua Ma Ok Va bene Scusi Non sapevo Che cittasse Anche E niente Va bene Andiamo a recuperare La roba Si direi Che non siamo Ancora pronti A questo punto Il problema Sono solamente Io però Perché E Chiaramente La difesa Che potrei Già Upgridare Solo che Farmi L'armatura Raffinata Cioè Per lui Che stress Questa ci serve Tantissimo Questa qui In Genshu Ci sono 900 Statuette Bello Divertente Devo dire Cioè Io Non capirò mai Sta cosa Dei collezionabili Per la mappa Allora Finché ti danno Un power up Mi piace Come cosa Però finito Il power up Io Mi rifiuto Di cercarli Per avere Un obiettivino Che dice Bravo Le hai trovati E bravo cretino Cioè Nel senso Avrei Perso Un casino Di tempo Per farli Se una persona Piace Il grinding Di questo tipo Non è che giudico Però Boh Se la soddisfazione È un trofeo Ne faccio Volentieri a meno Eh beh L'armatura Qui è rotta Comunque Quindi top Si gode Per prendere alcuni Devi uscire Di testa Se non vuoi usare Guide È peggio ancora Cioè Se per farlo Devi pure Usare le guide Cioè Il gioco Non ti dà Gli strumenti E allora proprio Non ci siamo Ok Statua presa Poi Come dicevamo Di notte Sarà tutto più Visibile Il fatto che Non so Quando arriverà Questa Questa nottata Ma so che Quello È un uovo gigante Salve Eh il radar Sarebbe interessante Poi magari Qua non ti dà Neanche Un trofeo Non so come funziona Non è detto Ma È super questo Protezione danneggiata Era l'elmo Cioè Mi ha devastato Tutto Anubis Mi ha rotto Tutto Allora Ti dirò È uno shiny Non si butta via Niente Certo Che gumos Poteva andarci Meglio Ecco Sugli shiny Avrei gradito Un bonus Per la cattura Stai parlando Di esperienza Mi sembra Che non ci sia No invece c'è Perché mi ha dato 1200 Per un pal Che avevo già Avevo già Dieci volte Bene Bene dai C'è un po' Di esperienza Già che ci siamo Rip Voglio insistere Con ste ball Perché tanto Ce le ho da buttare So che Non è proprio Il massimo Vedi c'è un puttanaio Assurdo In questa zona Che succede Venga Signor Fox Venga un po' Facciamo tutti Indistintamente Posto Ma sì Anche lui In trappola Tutti Tutti Allora Tipo Cattiva Ne ho già Dieci Quindi il bonus Cattura Ce l'ho già Se lo libero Mi dà comunque De bonus 66 Cioè È inutile Liberarlo Praticamente Che posiamoci Perché sennò Non si sale più Ah Mentre siamo qui Mi sono ricordato ora Questo non serve Non ci arriverò mai Vero Eh dai Però Che palle Eh Eh I punti interrogativi Che ci sono Eh Nella Nelle tecnologie Sono dovuti al fatto Che Anche se Dei palli Li ho visti Se non li catturo Non mi sblocca Il loro power up Tecnicamente Ah Rip Era già il decimo Se avessi fatto Tutta la live A catturare pall Sarei Salito Di Qualche Livellino Ma Qua Non c'è Il Non c'è la statua C'è un diario Là c'è una statua Naufrago Giorno 6 Cioè Questo è il giorno 6 E' arrivato qui Mica male Questo è un punto Panoramico Importante Si vede Tutta la regione Praticamente Da qui Siamo tipo Al centro Più o meno In realtà La mia base E' più centrata Forse Figo Allora Leggiamo il diario Però Prima Mi devo Soffiare il naso Che novità Sembra Essere anche Una pagina Del diario Molto importante Giorno 6 Vediamo Benissimo La fotografia Il disegno Sotto di noi E' sbagliato Però Aspetta Ma Scusami No La cartolina Questa cartolina E' Sbagliatissima Da dove cazzo L'ha fatta La foto Guardate bene Si intravede La zona Dove ho fatto La prima base La torre La parte Col bosco rosso Noi siamo tipo Qua Un mistero Che mi turba Fin dal mio sbarco E' quel colossale albero Simile all'albero Del mondo Dei miti Che si staglia Contro l'orizzonte Un albero di quelle dimensioni Dovrebbe essere visibile Da miglia di distanza Nebbia O non nebbia La mia teoria E' che la nebbia Non sia l'unica cosa Che blocca la visuale Deve esserci qualcosa All'opera Che protegge l'isola Dallo sguardo Del mondo esterno Al momento ritengo Probabile Che sia legata Ai misteriosi poteri Dei pal E parla Del qualcosa Dei pal Cioè il potere Dei pal Rende invisibile L'isola Questo stiamo dicendo Beh L'or sull'albero Graditissima Assolutamente Anche se c'è letto Poco nulla Allora Vedo delle statuette Una lì Una laggiù Vicino alla mia base Peraltro Che è lì E un'altra È dalla parte opposta Io mi incammino È il tramonto È il tramonto Peraltro Quindi Tra poco Dovrebbe venire Buio È appetito Eh lo so Sei un po' così Sei un po' stronzo Tu Ma hai in che ragione In realtà Non è vero Che sei stronzo Non ho più messo Questi Quindi Mangia sazietà Mentre io Mi sistemo Tutto Hai fatto Poi Finiamo dopo Di sistemare No L'albero Non è visitabile Pare per ora Il mistero Dovrà attendere E anche La mia salita Su questo Promontorio Apparentemente Allora Questo è il numero 33 Me ne mancano 3 Non ne vedo Qui in giro Anzi no Il cazzo Ce n'è uno Proprio qua Uno laggiù E credo ci sia Un'altra pagina Del diario Lì giù Incredibile O non ne trovo Nessuna O le trovo Tutte assieme Diario di Zoe Numero 5 All'improvviso Mi sono chiesta Perché sto Proteggendo Questa torre Questa è la Prima torre Anche mio padre L'ha sempre fatto Quindi lo trovavo Naturale Ma a pensarci bene Non ne capisco Il significato Sull'isola Si tramanda Una sorta di leggenda Su un potere Incredibile Che a quanto pare È legato alla torre Un potere Ma quale E tutto questo potere Serve a proteggere Qualcosa Sono queste Le cose a cui penso Mentre proteggo la torre Senza sapere il perché Sembra che anche Le altre isole Abbiano le loro torri Protette da altri Guardiani come me E allora Momento Speculazione Si potrebbe pensare Che intanto Se ogni isola Ha una torre Questa Questa qui Una qui Una qui Una qui Si i diari Sono molto più visibili Di notte Si potrebbe pensare Che Siano proprio le torri Il potere Legato ai pal Che difende L'albero Che oscura La visione Di questo mondo Dall'esterno Pare che fuori Dall'isola Ci sia una civiltà No? E chi Ci è arrivato Ci è arrivato Come naufrago Per cui forse Sono proprio le torri A A oscurarla Succederà qualcosa Battendo tutte le torri Mi Verrebbe da dire Di sì Ma Mi viene anche Da pensare Che ci saranno Altre isole Che ancora Non sono state messe Tutte attorno All'albero E che forse Solo dopo averle Liberate tutte Succederà qualcosa Arrivo Ragazzi però Me l'ho fatto Un applausino O un EBL Qualcosa Decidete voi Che ho fatto La live fino alle undici e mezza Con il raffreddore Io non ce la faccio più Per il raffreddore Non per la live Adesso Finiamo questa cosa Poi penso che staccherò Però L'abbiamo retta In qualche modo Allora Riprendiamo L'esplorazione Me ne manca uno Giusto? No? Due Vedo delle statue Da questa parte Non sono così vicine Come sembra Ma Neanche così lontane Queste litigano Io non me ne curerò Ma quindi se io libererò Tutte le torri Mettiamo il caso Che un giorno Le libero E Faccio in modo Che l'isola Sia visibile Dal mondo esterno Quindi questo velo Che la protegge Cade Sto facendo La cosa giusta? Non credo Sembra una cosa Terribile Ma alla fine Il nostro protagonista È terribile Se ci pensiamo Ed è invece Molto bello Questo Credo stia Lentamente Arrivando il sole Guardate che bella La foschia Così E Ultima statua Andiamo di qua Dicevo Il nostro protagonista È È un merdone Perché So gioca i pal Li uccide Li frulla Li pugnala Li sfrutta Nelle farm Li sfrutta Per l'accoppiamento Uccide le persone Si mette contro Tutte le fazioni Dell'isola Compreso L'ente Per la difesa Dei pal Macegliamo i pal Esatto C'è l'ente Per la difesa E quella cosa lì Mi turba Tantissimo C'è Sono un po' Degli stronzi Ci attaccano In continuazione Però è l'ente Per la difesa Dei pal E ce l'hanno Con noi Perché noi Siamo un pericolo Alla difesa Dei pal Capito Quindi Siamo noi I cattivi Della storia Forse Certo Poi Uno dei protettori Dell'isola È un narcotrafficante Vabbè C'è anche la congrega Del fuoco Che sono Praticamente Dei pazzi Una setta O Quelli in montagna Che pare Facciano Degli strani Sperimenti Di Fusione Dei pal No Non siamo Gli unici Cattivi Diciamo che siamo Parte della feccia Forse È vero L'ente Della difesa Le gabbie Siamo tutti Dell'ipocriti In fondo Ma ragazzi Per concludere In bellezza A parte Questo Che non credo Sarà una bellezza Ma Reindrix Ti dirò Ci sta Per concludere In bellezza Upgrade Finale Capacità Cattura Maxata Ci avanzano Due statue Ci siamo Ce l'abbiamo Fatta Oggi abbiamo Maxato Due cose Perché Oltre Di aver Maxato Questa Robina Qua Abbiamo Anche Fatto Il La base A livello 20 Quindi direi Tanta roba Questa puntata Inoltre Abbiamo Trovato L'ultimo Leggendario E a questo punto Non ci resta Che Continuare Io devo Sforzarmi Di Di fare Una bella sessione Di Off camera Solo Solo Dedicata A level up E magari Un pelo di esplorazione Se proprio Però Principalmente Level up Perché Se livelliamo Sblocchiamo Tutte le robine Interessanti Difensive Vi ricordo Che Siamo Al 44 Al 45 C'è il fucile Vabbè Top Vabbè C'è l'armatura E poi Ci sono Queste qui Sono Gli armaturone Finali E intanto Livelliamo Anche i pali In squadra Quindi È assolutamente Fondamentale Il level up Paninetti Se me li tengo Ci sta A tenerseli E poi Ah La stoffa La maledetta Stoffa Qui cosa vuoi Niente Dai Facciamo Stoffa Che ripariamo L'uovo gigante L'ho già messo A schiudere No Sì 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 Non ne ho altri Ci vorrà ancora un po' Per quello Quindi Lo vediamo La prossima volta Beh Ragazzi Tre ore di palward Le abbiamo fatte E niente Adestratori di pal Eccoli Come al solito Si scatena La guerra Qua Adesso Fanno tutto il giro Giù Poi tornano Su Eh stanno già tornando Indietro Ah già Ho fatto prima Allora Foxino Fuori Questi Questi sono quelli Della montagna Oddio Ma c'hanno i lanciarazzi Ho capito Adesso Alleanza Sono tutte Le fazioni Alleate Insieme Ragazzi Sono alleate Tutte le cazzo Di fazioni Bastardi Eh però Se cadete È un problema Perché mi attaccate Davvero Mi stanno Attaccando Sul serio Stavolta Si capisce Un cazzo Maledetti Maledetti Merdoni Che non siete Altro Ce ne sono Ancora Cioè Cioè Questi Ci sono Alleati Contro Di me Incredibile Nei pali in base Si livellano Da soli Il problema È che adesso Mi hanno ammazzato Pure qualcuno Oh Guarda Guarda Lì Di fucile Di fucile che c'ha Non avevamo mai Vissi da vicino Cioè Si sono alleate Tutte le fazioni Del gioco Contro di me Tranne forse La fazione Del deserto Che effettivamente Non mi è ancora Chiaro Come siano Incredibile Sta cosa E io che pensavo Di chiudere La live E invece Che meme Cioè Il bello Che a inizio Live Non mi hanno attaccato Come al solito Prevedevo Che mi attaccassero Invece no Arriviamo a fine live Mi attaccano a fine live Niente Comunque Delle fazioni In guerra Tra loro Si alleano Per Prendersela Con me Incredibile Allora Tu cosa Cosa facevi L'embol Esattamente L'embol Non so È un po' Tutto fare Scarso Diciamo Quindi con Chi lo sostituiamo C'è un altro L'embol Dai Puttiamo dentro lui Per ora Si fa la lana Infatti Non è che abbiamo Problemi di lana Però buttiamolo dentro Dai Bene Ora Dovremmo essere a posto C'è Yormontide Che non è per niente a posto Perché si è buggato Vixi non sta facendo niente Lui pure Ma non dovrebbero essere buggati In teoria Dovremmo essere tutti a posto Bene In questo punto Cibo ce l'avete Si Stiamo farmando alla grande Direi Ma già che ci siamo Forse Riusciamo a farci Un power up Maxiamo L'attacco Di Fox Posto E la difesa Boom Warsect Tira su qua Tu fai Difesa A posto Bene Ragazzi Abbiamo fatto proprio Tutto tutto Direi che siamo Siamo a posto così È stata una Puntata bella ricca Con tanto di sorpresona Finale Come vi stavo dicendo Cercherò Di Di fare un po' Di off camera Spero di trovare il tempo Perché Non è semplice Di solito Mi metto qui Mentre faccio anche altre cose E Però è un po' Un po' un casino E Però se abbiamo bisogno Di livellare Quindi Direi che serve Decisamente Fino ad allora Vi saluto Ci vediamo Domani sera Se tutto va bene Alle 20.30 Con la prossima live Quindi buonanotte Grazie di aver seguito E A domani Grazie a tutti Grazie a tutti